Bella ragazzi, Footwork Italia qui, nostro canale, nostra prima challenge di freestyle Ma non challenge di freestyle normale, ma challenge di freestyle a gruppo Si sfida la squadra, footwork grigia, contro la squadra, footwork camouflage Wouter e John contro... Chiari e Henry Ci sono due particolarità però di questa challenge La prima particolarità ragazzi che andremo a sfidarci non su una battle di freestyle classica come quelle che vedete su internet Che ci avete visto fare separatamente insieme Ma ci andremo a sfidare sui trick, sui primi 5 trick che vi abbiamo spiegato nei tutorial sul nostro canale Tra l'altro se non ne avete visti andate a vederli e iscrivetevi al canale Ogni squadra avrà 6 tentativi per fare almeno un punto Quindi 6 tentativi a 2, 3 e 3 Il primo di loro due che riuscirà a fare il trick prenderà una bella V sotto il trick e guadagnerà un punto Basta che lo faccia uno per passare al round successivo Seconda particolarità è che questa challenge verrà svolta da bendati Senza vedere dove sono i piedi, senza vedere dove è la palla Il tutto fidandosi alla propria testa, ai propri sensi E diciamo che ha un bel po' di culo Anche un bel po' di fortuna ragazzi Quindi al massimo potremo avere 5 via testa E la squadra che totalizzerà più punti alla fine di questa challenge sarà la vincitrice Cioè i grigi Non sapremo come andrà Prima challenge ragazzi fateci sapere Qua sotto se volete vederne altre fateci sapere Cominciamo subito a mettere un bel like a questo video Raggiungiamo i 150 like perché i 150 like andremo con la seconda parte della challenge Partiamo con la prima challenge Quindi con il primo trick Che sarà appunto il nostro giro del mondo Non vedo una minchia Vediamo lì una palla a sto povero ragazzo Ragazzi dovrà chiudere la tv quindi partire dalla mano Chiudere la tv e riprenderla in mano Vado? Vai C'era qualità C'era quasi C'era quasi Eh raga non ci vedo Secondo tentativo Oh quasi Il nostro giurato Basica Vai Vai Adesso Guarda la camoplage Sì Guarda la camoplazione Sì 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 Sono bravo Oh Guarda Sono andato troppo a sinistra Notare l'importanza dei consigli al proprio compagno di squadra Dio Eh no Questo Questo no Sono andata la falla Oh Sali Prendi quel mezzo secondo di tempo E poi la tocchi La picchietta da giù con il ginocchio Un tentativo per ecchiarvi Mamma mia Aspetta un pelo Aspetta un pelo Era giusta E' difficile calciare Era giusta Fai il giro Aspetta un pelo Ragazzi è il momento Oh 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 Al terzo tentativo ragazzi Ma ce l'abbiamo fatto La seconda challenge Che appunto L'elastico Raga Questa la centriamo subito A parte ancora gunta ragazzi A posto Ce l'abbiamo Vai bro Giusta? Buono Massimo sarebbe se Riusciamo anche a stopparla Ragazzi in piedi Se vuoi Vado? Vai vai Va bene va bene bro Siccome l'ho già chiusa io John non ha bisogno di farla E si passa direttamente Alla squadra camoflagica Guardate come è contento John Che non deve neanche provarci Sei tentativi Per i camoflaggi Onesto Era definibile Dunque Henry ha fatto l'elastico Al primo tentativo Sono fortunato come John Non dovrò nemmeno provarci Perché entrambe le squadre Sono già passate a round successivo Quindi ragazzi Siamo 2 a 1 Anche se l'elastico grigio Seconda è la più bella Fatecelo sapere Già che ci siete Ragazzi la challenge numero 3 Sarà l'H3000 Un trick di street soccer Che abbiamo trattato io e Johnny Johnny saluta Saluta Johnny Johnny Ed appunto questo Il tutorial dell'H3000 Che è che fa Let's go parte John Perché conta la chiusura elastico Al primo tentativo Quindi facciamo provare John Che giro nei campetti Con il Labrador Che ti occupano Ragazzi Team grigio è pronto Vai John Sieni qua Vai Per me non sbaglio Ragazzi il team grigio c'è H3000 Anche se non mi sbaglio Sto dando madre Vai Sbiazza Ok raga Devo portare in alto L'unore della squadra Sì Ciao 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 Vai Ciao Ragazzi Vesparo uno Andiamo Siamo pronti Eh no È un casino Cazzo Ok raga First try Chiudiamo Chiudiamo Chiudono la testura Ci mandano a casa così Sei tentativi Per il team Siamo slagini Niente da fare Fuori Ma becca Sì 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 Dai che c'è Fuori Quasi quasi Abbiamo avuto uno piccolo intoppo Si è allontanata la panama al corpo Ma Capete parti Due andati Questa era Con tre E arriva E' ancora E' difficile Perché la D E' la X su di nuovo Vedo la nostra D E' la X su di nuovo E' su di tira Una catrivina Nelle palle La terza challenge L'hanno vinta Quelli infami Del team grey Ma ora passiamo Con la quarta challenge Bravi ragazzi Giusto Meritato Passiamo con lo slap E questa volta Parte Johnny Quasi 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 Troppa Foga di chiudere Ci vuole un attimino di calma Ancora due sentativi Vai ragazzi Rapidì Eccolo Eccolo Scuola di guida Prende il punto Siamo pronti ragazzi Di tentativo E' in un Bound Fatto fin troppo bene Cioè lui non ha sbagliato Perché ha sbagliato Lui ha sbagliato Perché l'ha fatto Troppo bene Perché volevo sbagliare Non come ora Raga adesso Quinto tutorial To bounce Siamo a tre pari Piccola premessa ragazzi Il giorno To bounce Non l'ha mai fatto Neanche non bendato Quindi sarà E' difficile per noi Si inizia il gioco Prende l'attivo Di To bounce Vai Vediamo Uno è andato Va bene E lo fa subito Attenzione I primi 5 trick Sono andati Di nostro tutorial 4 pari La squadra di gioco E' andata male Nemmeno la squadra Camouflage Ha fatto così tanto male Se volete vedere ragazzi Gli altri 5 trick Quindi gli altri tutorial Che vi ha fatto Facciamo arrivare questo video Almeno a quanti like 150 150 like Se continueremo questa challenge E faremo anche gli altri trick Che fanno più difficili Tra cui ragazzi C'è anche l'HTV Che è questo Da bendato Questo se lo sbagli Sei praticamente morto Io sono caduto Anche da non bendato Vi ci vediamo la prossima puntata Ciao ragazzi Ciao Ciao Grazie a tutti